Abbiamo fatto una passeggiata di 10 minuti nell'isola pedonale di via Scarlatti e tutti questi volantini sono rifiuti che hanno prodotto tutti gli stand che erano qui stamattina. Adesso li svuotiamo di nuovo, pesa all'incirca 2 kg, 2 kg di carta. Ecco qua signori, il Movimento 5 Stelle ricicla, è una nostra filosofia di ognuno di noi, cittadini liberi. BD, Sistema, Cielo, Libertà, Pdl, Pdl, Pli, c'erano tutti signori, tranne il Movimento 5 Stelle. Grazie a tutti.